Mara, ti possiamo chiedere un ricordo di Sandra? Ne hai tanti. Troppi, soprattutto umanamente. Io non so che dire, sinceramente. Le volevo molto bene. Ma le volevo bene, lei voleva bene a me, ad Alberto e basta. Scusate, ci fate passare? Scusate, è veramente impossibile. Ci fate andare in chiesa, grazie, scusate. Agenti, ci aiutate per fuori, grazie. Un ricordo? I ricordi sono tanti, ragazzi. Io non so da che parte cominciare. I ricordi sono tantissimi. Le volevamo bene. Lei era una donna gentile, generosa, molto presente nell'amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva solo, tanto che non ci sentiamo. Mara, dimmi, Sandrina. No, ti volevo dire che ti voglio bene. Finiva così. Siamo qua perché le vogliamo molto bene. Le sue battaglie verifici sono sempre fatte. Grazie a tutti, anche per le donne. È una donna libera. Ha insegnato ad essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante. Ragazzi, scusate.